Ma io diciamo che i sacrifici non ce n'erano, nel senso che quando io stavo dentro il campo da calcio, siccome è una cosa che mi è sempre piaciuta, perciò non l'ho mai sentito come un sacrificio. Per quanto riguarda il resto invece c'era un continuo allenamento, cioè io non essendo fisicamente prestante è chiaro che dovevo sopperire a questo con altre doti che potevano essere i calci piazzati, i calci d'angolo, lo scatto breve, le furbizie contro i difensori perché non potevo andare a competere sotto il lato fisico con loro e allora queste cose ci ho sempre creduto, ci ho sempre puntato su queste cose.